Mercoledì 7 luglio alle ore 21 torna lo speciale di medicina e ricerca nuove frontiere con il dottor Giuseppe Di Bella. In questa puntata parleremo della prevenzione e del ruolo sinergico tra le molecole antitumorali che sono utili anche nella lotta al virus. Quali presidi adottare? Come proteggersi? Quali le evidenze scientifiche in grado di dare una corretta informazione? Di tutto questo parleremo con il dottor Giuseppe Di Bella, presidente della fondazione Luigi Di Bella. Vi aspettiamo mercoledì sera alle ore 21 su Telecolor e in streaming su telecolor.net e sulla nostra pagina Facebook. Non mancate!